Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di SkyProgress Come vedete nel mio inventario I soldi non saranno più un problema In questa serie Per il semplice motivo che questa farm che ho ideato Degli scheletri con il bonnia alle cose Questa combinazione di farm È perfetta È bellissima Ho scoperto solo un piccolo bug A cui non avevo pensato in realtà costruendola Che questo dispenser qui a destra È pressoché inutile Perché nel momento in cui io vado ad attivare la leva Questo dispenser rimane permanentemente attivo Per fare in modo che questo dispenser funzioni Io dovrei fare il circuito Questo clock con il comparator da destra Cioè fare in modo che questo arrivi Magari lo metto qui Faccio fare il giro E poi da qui va in alto Va di là Perché se c'è una leva sotto il dispenser Rimane permanentemente attivo E io quando faccio così In realtà Gli unici suoni che sentite Sono i suoni di questo dispenser E di quest'altro dispenser E quindi c'è un po' questo fattore Però l'altra cosa che davvero funziona benissimo Quella che vi ho detto che avrei fatto Nello scorso episodio Dopo aver definito il registrare E che ho fatto È stato quello di utilizzare un hopper Insieme a una cesta E succede che praticamente Arrivano a essere 24 scheletri All'interno di questo buchetto E quelli che arrivano dopo muoiono Ma la cosa bella è che muoiono Anche relativamente Veloci Nel senso Non è così lenta come cosa Come immaginavo Cioè che ci mettessero Pam Prendessero danno Pam Pam Ah ho preso anche un altro Aerone generator Non ricordo neanche se l'ho mostrato In video Il succo del discorso È che basta stare A questa farm Un po' fk Tipo di mezz'oretta Per avere tanti di quel bone meal Che ti fai un botto di carote O patate Io ho fatto le carote Perché sono quelle che preferisco Al momento Perché ho l'impressione Che me ne dia di più Lo so che non è vero E che le carote e le patate Hanno lo stesso rate di drop Però ho questa mia impressione Quindi visto che io credo Nel mio istinto Ho fatto più carote Ora se io vado allo spawn E vado allo shop Posso vendere tutta sta roba Non so di preciso quante me ne dia Di preciso Quanti soldi Poi possiamo fare un rapido calcolo Anzi In realtà Possiamo vendere tutto quello che abbiamo Forse le carote Non avrei dovuto venderle Allora Veniamo tutte le carote Le patate non mi devo vendere forse Se arrivo a 4000 top Metto un altro generatore Mi sa che non ci arriverò Però posso Invece ci arrivo C'erro la grande E mancano ancora due stack di patate Incredibile ragazzi La quantità di soldi Che mi sta facendo fare questa roba Ha dell'indecente Ha dell'indecente Comunque io posso andare Ancoramente al nostro generator Prendo un altro generatore Di ferro E dai eh Torno a casa Metto anche il terzo Ed è che stiamo creando Un buon processo E tutto qua Io vorrei mettere Un altro slab da sotto C'era un elementare Ecco infatti Lo metto qui E metto questo qua sopra Ma nooo Sbaglio sempre Raga non riesco a metterne uno decentemente Cioè non riesco a fare un blocco Continuo Di sta roba qui Non ce la faccio Guarda c'è uno sopra Uno sotto e uno indietro Con quale logica Non lo so Ho fatto stack Ora ho tre generatori di ferro E che Con questa cosa Dovrebbe essere Molto 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 buona Anche perché Io non l'ho fatto Perché ora magari Potrebbe servire del ferro Però Qua ne ho quasi uno stack Prendo questo stack da 64 Questi due li lascio qui Questi sono quelli la Che sono generati Dal Dall'iron farm Si vede dai tag che ci sono sopra Se io vado nello shop e provo a vendere anche questi Di sicuro Ci riprendo un botto di soldi Ora sono a 404 Se io vendo 8 iron ingot per 240 8 per 8 Eh Non dico 2000 dollari eh Però quasi Da 404 Passo a 23 Sono quasi 2000 dollari Sono 1900 Diciamo Quindi non male Uno stack di ferro Mi da Quasi 2000 dollari E ora uno stack di ferro Lo faccio davvero in poco Considerando che faccio 6 lingotti di ferro ogni 5 minuti Quindi ogni ora faccio 2000 dollari Praticamente se volessi Comunque Già che siamo quelli che possiamo andare a Mines and Monument Perchè i nostri obiettivi per questa serie Non sono moltissimi A dire il vero Il ferro in realtà non mi serve Perchè prendo il ferro C'ho i generatori a casa Posso fare quanti ne voglio praticamente Tanto vale Tenerli la Comunque i nostri obiettivi per questa mappa Non sono tantissimi A dire il vero E a dirla tutta Se non volessi io Creare tutti i generatori E robe varie Sarei Avrei quasi finito in realtà L'unica cosa che mi manca E andare nel land E completare il monumento Ma il monumento è letteralmente semplice da completare L'abbiamo visto entrambi Anzi una cosa che posso fare E creare il magenta die E andare a mettere la magenta bull Perchè se non sbaglio E' una cosa che mi manca Da fare Tra l'altro in tutto questo Io potrei mangiare delle bitroot Le bitroot mi danno tanto cibo Mi danno un cacchio Mi danno tre quarti Neanche mi danno metà Non servono a nulla le bitroot Ne ho a prendere delle carote Tanto ne ho tante Dovrei avere uno stacchino qui Dieci No ok ne ho pochissime Dai facciamo così Rompiamo il grano Ci facciamo un panino Mi mangio il panino Mangiamoci il panino che è buono E daglie Ah non avevo mai fatto il pane E daglie Ora se non erro Io non ho mai completato Una certa parte del monumento che avevo visto Mindset Monument Se non sbaglio Ci dovrebbe essere uno Da qualche parte Bello che io non ricordo mai Dove sono tutti sti monumenti Che parlava di una lana Color magenta Cosa che io non ho mai fatto Bisogna andare a cercarle però Ste cose Eccola qua Magenta wool Qui a me basterà fare una cosa di questo tipo Magenta dye Magenta wool E boom Ci siamo E questa Un'altra mystical key Che non mi dispiace Un botto di lana di tutti i colori E non mi dispiace neanche questa in realtà Sono blocchi da costruzione alla fine Un po' di grano Per fare i panini Qua c'è lo spawn sheep Allora c'è un uovo di spawn di uno sheep Di una pecora Non è male come cosa Non so cosa mi potrebbe servire Perché la lana Non penso di poterla vendere E poi Comunque È solo un uovo Non è che sono due E Tra l'altro Qui abbiamo un botto di pecore Quindi potrei fare una farm Qui di pecore Semmai La cosa che mi interessa molto è la mystical key Perché la mystical key Perché la mystical key Fatta Nel punto giusto Con le cose giuste Potrebbe darmi qualcosa di molto bello Andiamo al mystical crate Usiamo la mystical key E abbiamo ottenuto Altro carbone Orca vacca Cos'è la befana Che ha deciso che sono Stato un bambino cattivo Orca vacca Dai abbiamo un botto di roba da posare Posiamola Posiamola Posiamo tutta la lana Posiamo anche il carbone Non è che mi serve a molto Anzi vabbè Il carbone lo riutilizzo Sponship Potremmo qui Questo è del cibo Quindi me lo tengo molto volentieri E invece il resto lo posiamo E forse mi comerebbe fare dei panini Tutto questo Il carbone lo mettiamo nella fornace Insomma quasi uno stack di carbone tra l'altro Ma non abbiamo finito Io voglio completare il monumento Voglio arrivare a completare il monumento Certo ci sarà qualcosa che non riuscirò a completare Ovviamente Però Mi piacerebbe anche iniziare a contare quanti ne ho completati Per il semplice motivo che Nella OMA Diciamo nella lobby del gioco della mappa C'è scritto che ce ne sono 20 E io non sto contando E lui non me lo dice quanti ne ho presi Quindi per ora io ne ho visti 4 Cioè quello del tutorial che comunque lo conterò come monumento 1 2 3 qua sotto 4 5 laggiù E dai è insomma un quarto Poi va bene ho peccato anche quello là in fondo Quello dietro di là Però sono sicuro che qua sotto ce ne saranno altri Cioè poco ma sicuro Allora ragazzi io direi prima scendere Tanto sì ho un po' di roba di ferro L'armatura ma tutta cosa che posso recuperare facilmente avendo le generazioni del ferro La sotto ce n'è uno e quello mi sembra abbastanza inculato quindi potrebbe essere una cosa di difficile Lì a destra ne vedo un altro e anche quello mi sembra potenzialmente complicato Ehm Anche perché io ho un arco ma solamente due frecce E' un arco anche incantato con un breaking e power quindi non male cerchiamo di non perderlo Non ho molti blocchi ma ho un piccone quindi posso prendermi della cobblestone per andare a fare i ponti del caso e fare le tecniche quelle belle Oh mio dio quanti ma possono Ehm Prima fare un ponticino che dite? Ok così cadono anche Bravi cadete nel vuoto Bravi bambini Faccio tipo nelle bedwars? Faccio tipo nelle bedwars? Ci provo? Aspetta proviamo a chiudegli la strada In modo che non possono uscire da lì Ok ora non possono uscire da lì Questo potrebbe esplodere tranquillamente in realtà Quindi siamo tranquilli Tu muori Non esplodere Non esplodere ti dico non esplodere Non esplodere ti sto dicendo non esplodere Boom è morto Questi ormai non contano più niente perché non mi possono raggiungere Io questo per cui riesco a farlo Quindi andiamo a leggere velocemente cosa c'è scritto là Emerald block Mannaggia lui Ma quanta gente c'è No no ciao ciao torno indietro E' stato bello ragazzi eh Non mi sparare eh Non mi sparare non usare mica Mi sta sparando Mi sta sparando Non mi sta sparando Ok là c'è Ah ma aspetta c'è un altro là a destra A sinistra Porca vacca Facciamo un po' di parkour Attenti Attenti non mi sparare eh Non mi sparare Ok Eh ciao bello Cadi Per favore Provo andare dal lato Andiamo dal lato Facciamo un po' di infamotti Ma andiamo dal lato Cerchiamo di evitare Mob e cose varie Facciamo un po' di parkour Qua c'è scritto là sopra C'è scritto Diamond block Ma mortacci Un emerald block E' un diamond block E io due cacchio Li faccio sti cose Li butto? No no Inutile buttarsi Inutile buttarsi Facciamo una scaletta qua dentro Magari c'è anche una caverna all'interno della montagna Io non lo so Potrebbe essere Ok A quanto pare qui c'è una bella caverna Ed è bella strana Vedo dei pezzi di lana Vedo un enderman Vedo una cesta Ok Cosa ho trovato? Appena adesso cosa ho trovato? Ho anche finito le frecce Sono abbastanza inutili al momento E' pure notte Ma perfetto L'accominazione perfetta davvero Riesco ad avvicinarmi a qualcosa? No Vuoi provarci però A quello? Neanche Ok a quello si invece Voglio creare un mini ponte Altrimenti qua siamo Proprio nella merda Ma cos'è sto posto raga? Cos'è sta roba? E' uno spawner Più di ragnatele Là c'è una cesta Più di creeper E' proprio brutto sto posto Non mi piace Non mi piace Potrei provare ad andarci Ma ora è notte E io ho paura di questo Di quello che potrebbe succedere Vi dirò di più Cercherò di creare una scaletta Che mi riporti su Altrimenti Non ho molto da fare In questo qua Ok siamo di nuovo in cima Direi che abbiamo bisogno Un attimo di parlare Ma più che altro Anche di dormire Ok ragazzi Si è bugato tutto Ragazzi io direi Prendiamo un bel po' di frecce Tipo tre stack Facciamo tre stack Facciamo tre stack L'arco ce l'abbiamo Prendiamo anche delle torce Facciamo anche delle torce Tra l'altro Andiamo a vedere di cosa si tratta A sto posto brutto brutto Sono curioso Sono curioso Ah visto che ci siamo Tra l'altro il ferro ce l'abbiamo Quindi non vedo perché Non dovremmo Farci l'armatura completa Almeno siamo un po' Al sicuro Facciamoci piedini E testa Le indossiamo E siamo Alla grande Che famo Andiamo? Proviamoci Monument Ok Devo scendere per di qua Ma cibo ce ne ho? Si dai Voglia Allora scendiamo per di qua Ho fatto le scalette Ah che benessere Ragazzi Mi sembra di star giocando all'hunt farm eh Con tutta sta roba che sto facendo Allora No 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 i blaze No no E cioè ma che che mi stai dicendo Cioè io ero anche disposto A fare cose eh Ma i blaze no I blaze no ti dico No Cioè grazie mille davvero dell'offerta Mi spieghi con i blaze come No mi fa cadere questo eh Allora Siamo calmini eh Non mi colpire mica Mi ha colpito Mi ha colpito La situazione sta un po' degenerando Ragazzi avete capito quante Quante maglialate ci sono qua sotto Mori un po' Non riesco a colpirle Allora riusciamo ad ammazzare Prima cosa la gente brutta Tipo là c'è una strega Può morire Può morire Ci sono dei creeper Piacerebbe essere anche gli schietti a dirla tutta eh Quanta gente c'è Ha droppato il ferro quello zombie Non che mi interessi particolarmente però Ti vedo Ti vedo che c'è un blaze Mi piacerebbe ammazzarlo eh Se c'è un blaze Eccolo Eccolo Muori Morto Eh ma quanti siete frate Ok Ora ho ammazzato i blaze Quindi mi ha scoperto che quello spawner non spawnerà di blaze Perchè non avendo l'optifine non posso Ah è vero in questa versione c'è l'optifine Aia da shall Aia E volevo capire un attimo cosa c'era in queste ceste Lì c'è addirittura un carterno Un cartello Se Se io fossi in te Non aprirei questa cesta Come minimo è una cesta trappola A questo punto Quindi prima di aprirla scaverei intorno Riusciamo ad arrivare lì? Potrei provarci Ecco un'altra cosa qui potrei provare E non morire Riesco a fare il giro Allora secondo me riesco a fare un giro enorme E vado dall'altra parte Ho bisogno di un po' di cobblestone per farla Però non è un problema Tanto ho il piccone Manche un po' di cleva Benissimo Dai usiamo la clea La terracotta Facciamo un bel buchetto qua dentro Iniziamo a scendere un pochino verso di là Finchè non troviamo nulla Speriamo di non trovare un campo di forza Perché i campi di forza sono un po' come una carognata Ok Allora cobblestone ne abbiamo Quindi la userò Però non pensavo di avere così poco spazio per usarla Questa è un po' una merdata Niente come non ho detto Dove forse andare da fuori Si sta rivelando più difficile del previsto Ok io posso scavare solamente qui Qui facciamo un bel ponticione Qua c'è il campo di forza Quindi oltre qua non possiamo andare Visto che quella parte centrale è molto complicata Mi piacerebbe avere Non lo so Una strategia di attacco più che altro Sono curioso di sapere cosa c'è all'interno di quella cesta Ho finito il piccone Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci voglio credere Dimmi te se uno può finire il piccone Dimmi Allora ok abbiamo rotto il blocco che serviva La c'è dell'acqua Ah ragazzi ma noi abbiamo il trucco Possiamo usare il campo di forza qui Questo è un trucco niente male eh Questo è un trucco È un bel trucco Dobbiamo solo stare attenti a eventuali zombie E o scheletri E o ragni Perché i ragni salgono Mannaggia loro Ragazzi se muoio è un casino Sarebbe meglio non morire Allora La sotto c'è anche uno spawner di guardiani Ma che cacchio sto facendo io qua Perca vacca c'è pure il creeper Ciao signor creeper Che mette a posto Sono contento Buonasera Va bene Io passerò le prossime Sei generazioni ad ammazzare i mob che mi stanno venendo contro Non è un problema Ragazzi ma se io provassi ad aprirla e basta Io ci provo Io la apro e basta Al volo Orca vacca che non lo sapevo Veloce 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 Ovviamente sì Ovviamente sì Ovviamente c'è Perché Perché mi sono avvelenato Non ho Il ragnetto qua sotto mi ha avvelenato Ma può essere così infame Giustamente c'è anche lo spawner di ragni C'è uno spawner di tutto là dentro E il tutto perché c'è una cesta Va bene ragazzi Allora per il momento vi dico che per questo video è tutto Vi chiedo tantissimo regione Ci vediamo nel prossimo episodio Vi condivido lasciare un piaccio Il semplice questo video Scrivetevi al canale Se ancora lo avete fatto su Twitter Insta Facebook Io vi saluto Ciao a tutti Ciao a tutti